Rosalba Forciniti Era un peperoncino, si litigava con tutti fuori e dentro il tatami, era fortissimo, io la facevo gareggiare con i maschi e avevo pure problemi a farla gareggiare con i maschi. Purtroppo nel 2005, visto che noi siamo in Calabria, si è arruolata fortunatamente da un'altra parte nei Carabinieri perché lo sponsor dei nostri sport minori sono le forze armate. Da quanto tempo non la vedi? Non la vedo da giugno, nell'ultima festa dello sport, ha lottato con mia figlia, mi ha chiesto se fosse mia figlia e sono molto contento di averla rivista dopo un po' di tempo. Te l'aspettava un successo simile? Sì, me lo aspettavo. Il frutto di una programmazione. Secondo me doveva andare pure a Pechino, doveva essere portata i tornei di qualificazione per andare a Pechino.